buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione buongiorno ragazzi il popolo di tu fucca 88 bancomatti quest'oggi bancomatti riportano grande concorso l'idl marchiato denominato magico natale esatto denominato magico natale per il periodo in cui verrà svolto ok ok allora con una spesa di almeno 25 euro e due prodotti di marchio deluxe che peraltro vi posso garantire io sono molto validi e molto buoni le origini che ti piacciono sono deluxe assolutamente sì no ma anche tipo la pasta al tarturo c'è roba abbastanza particolare però sono veramente veramente buoni a me piacciono piccola parentesi non ho appena fatto un test delle creme cosmetiche più economiche che sono migliori sì c'è quella dell'idl magari al numero uno c'è quella dell'idl costa 3 euro e batte le altre devastante chiusa parentesi devastante allora dicevo ogni 25 euro di spesa si avrà la possibilità di partecipare a questo concorso allora ogni giorno 5 buoni spesa da 25 ogni settimana un buono spesa da 250 e ogni settimana un buono viaggio l'idl perché non so se lo sapete ma l'idl ha le convenzioni con i viaggi esatto bravissimo poi dal 17 al 24 dicembre impaglio 6 buoni da 500 euro più il super premio finale la destrazione finale un alfa romeo giulietta che è la cilindrata della mia sì io non avevo la giulietta sono anche 10 anni fa però è questa è un alfa romeo giulietta pagata a tutti quei buoni eh 1.600 è 1.600 mx116 jtdm sport un bel mezzo un bel mezzo un bel mezzo per tutti poi beh per partecipare come la meccanica del concorso dei 25 anni l'idl anche qua inserire i codici inserire i dati e via registrare tutto via web sì sì tutto via web allora l'ultima volta però questo qui non è segnato a sto giro però non lo so bisognerebbe chiedere nei punti vendita l'altra l'ultima volta se tu pagavi con carta di credito o visa non mi ricordo se anche elettronix o solo visa avevi la possibilità al doppio delle giocate però dovremmo andare a chiedermi ma per ora non l'abbiamo vista ma non c'è scritto anche perchè comunque non è ancora eh ufficialmente ah no è appena è appena stata attivata questa casistica non è stata sollevata ancora esatto quindi non si sa diciamo che non è ancora entrata nel merito la situazione però vabbè però non c'è scritto quindi non ci sembra però vabbè vediamo ve lo buttiamo lì almeno se siete nel punto vendita anzi se lo scoprite scrivetecelo qua sotto nei commenti almeno rendete partecipi anche noi della situazione il concorso però è riservato agli iscritti nel newsletter leader quindi correte a iscrivervi perfetto ok conservate lo scontrino perchè verrà richiesto in caso di vincita perfetto e guarda vi abbiamo spiegato tutto concorso valido dal 30 ottobre al 24 dicembre ottimo estrazione finale il 10 di gennaio ah quindi povero lo sai subito se mi fa bene 10 gennaio 2018 perfetto l'abbiamo spiegato dalla A alla Z ottimo io a questo punto direi oh che stai faccomati ciao ragazzi mi raccomando continuate a spolliciare commentare come state facendo continuate a seguirci sui nostri social social twitter telegram instagram e se buonanotte facebook ho messo telegram un po' così si c'è stato un po' di telegram ho un po' di icone sulla lingua perchè smanettiamo di brutto no poi mi raccomando continuate a seguirci anche su telegram se non vi siete iscritti iscrivetevi a questo punto direi un abbraccio ai Bancomati ciao